Questo è il terzo anno che gli operatori turistici di Agropoli raccoglieranno la tassa di soggiorno e purtroppo non conoscono, se non in parte e senza documenti alla mano, quali saranno i frutti di questa raccolta. Le richieste fatte negli anni passati non sono state raccolte. Questa la denuncia di Aota, che arriva come un fulmine a ciel sereno in prossimità dell'estate e diretta al sindaco Adamo Coppola. Il 10 febbraio la Aota chiedeva una riunione con l'amministrazione comunale per ricevere risposte in merito a pulizia e manutenzione delle spiagge, soluzioni previste per lo smaltimento degli accumuli antropici di Posidonia, previsioni di spesa dei proventi derivanti dalla Bad Tax, appunto la tassa di soggiorno, politiche in favore del commercio attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno diretto alle imprese, ma nessuna risposta. Vogliamo ricordare all'amministrazione comunale che l'impiego corretto e intelligente dell'imposta di soggiorno ha portato comuni virtuosi di gran lunga più piccoli di Agropoli e con caratteristiche strutturali meno vocate turisticamente a raddoppiare le presenze turistiche e il gettito d'imposta. In pochissimi anni è evidente e scontato che il dato di evasione dichiarato dallo stesso comune, circa il 70%, deve far riflettere. Inoltre si pone qui anche il problema della concorrenza sleale delle strutture ricettive non autorizzate che continuano da anni ad inquinare il mercato e a danneggiare la qualità del turismo. Chiediamo pertanto che venga diffuso un piano di utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno. Tale piano deve rispondere alle esigenze di potenziamento dell'offerta dei servizi in linea con le esigenze registrate dal target turistico di riferimento. Quali sono i nostri mercati di riferimento? Quali sono i servizi mancanti, richiesti e quali da potenziare? Quali le politiche di comunicazione, informazione e promozione da intraprendere? Infine, scrive la OTA, non è più tollerabile l'improvvisazione, la superficialità e la scarsa competenza organizzativa di questo settore vitale per l'economia di Agropoli.